Ben trovati a CloseUp, oggi parliamo di informazione della sua rilevanza sociale. Tutti i cittadini sanmarinesi saranno resi conto in questi mesi di pandemia dell'importanza di avere un'informazione trasparente, che avesse delle fonti autorevoli, che rispettasse i principi di pertinenza e di continenza, che non creasse sensazionalismi facili, perché era facile in quel momento di grande timore sociale. Tutta questa premessa perché? Perché noi oggi non parliamo di giornalisti, noi oggi parliamo di informazione e di giornalismo nella sua accezione più ampia, quindi non è una trasmissione tecnica, ma è una trasmissione veramente che riguarda tutti. Lo facciamo oggi perché c'è stata una novità recentemente, chi segue il Tg lo sa, nei giorni scorsi la consulta per l'informazione ha incontrato il segretario di Stato all'informazione, Teodoro Lonfernini, che è con noi oggi e che ringrazio due volte, dunque, il segretario, un po' perché martedì scorso ha incontrato una delegazione della consulta per l'informazione, un po' perché oggi è qui per raccontarci tutte le novità e un po' in retroscena, perché noi ne abbiamo dato conto nel Tg, partiranno questi tavoli, poi vedremo insomma bene che cosa succederà. Saluto e ringrazio anche il nostro direttore, Carlo Romeo, direttore generale della San Marino RTV, grazie, e il presidente della consulta per l'informazione, Roberto Chiesa, che è anche uno dei nostri giornalisti sportivi. Grazie Roberto, sei di casa. Grazie a te, sarai quasi di supporto. Ho fatto una rampa di scale. Esatto, infatti, ma infatti ti vedo affaticato e quindi iniziavo subito con il segretario all'informazione. Che è esatto. In vista sportivo affaticato, già. No, in realtà di solito prende l'ascensore, oggi effettivamente è sceso per le scale. Segretario, diciamo allora l'importanza di questo incontro. Innanzitutto cosa l'ha spinta a condividere l'urgenza da parte dei giornalisti di cambiare qualcosa in un momento come questo, in cui il Covid, e parlavo poco fa, ha veramente cambiato e aumentato le tante emergenze che avete trovato come governo a dover affrontare. Quindi cosa l'ha spinta a incontrare la consulta e a dare subito una soluzione per questi dati anche con una tempistica piuttosto veloce? Ma più che cosa mi ha spinto a incontrare la consulta, che è un piacere, quindi non era tra l'altro la prima volta che avveniva dall'avvio di questa legislatura, ma bensì la seconda. Più che farmi quella domanda sicuramente cerco di trovare delle considerazioni proprio avendo vissuto dei momenti estremamente difficili come quello del periodo del Covid, del lockdown, dove di fatto veramente l'informazione è diventata l'elemento più importante attorno al quale poi si doveva costruire, se vogliamo, anche una sorta di pace sociale. Non era solo l'intervento di carattere sanitario che tranquillizzava, ma prima di quello, o per chi non era colpito direttamente, sicuramente l'informazione, il canale informativo, lo strumento per arrivare all'interno delle famiglie e delle persone, era chiaramente chi sapeva dare delle corrette informazioni, delle puntuali informazioni e è logico che abbiamo visto difetti, abbiamo visto pregi, abbiamo visto mancanze, abbiamo visto tante circostanze invece ben condotte e su quello in una piccola comunità come la nostra mi sono chiesto e ci siamo chiesti anche all'interno del Congresso di Stato se era il caso di incominciare ad accelerare un po' dei percorsi che sicuramente sono stati tenuti un po' fermi nel corso del tempo, andando a rivedere, se non altro, riguardare un po' nelle fasi anche preliminari gli aspetti legislativi su cui il nostro Paese di fatto costruisce poi quel tipo di attività professionale. Questo tavolo misto che partirà è per la revisione della normativa sull'editoria o ci sarà una legge tutta nuova? Abbiamo preso un impegno intanto di vedere quali sono veramente i difetti su cui dobbiamo colmare tante posizioni partiamo da un presupposto, partiamo sempre dall'impianto legislativo che abbiamo oggi sotto i nostri piedi e da lì chiaramente dobbiamo o decidere di migliorarlo, se questo sarà possibile oppure io chiaramente non ho nessun tipo di preclusione anche costruirne uno nuovo che risponda decisamente molto di più a quelli che possono essere i criteri del nostro Paese non dimentichiamoci, è vero che l'informazione non ha confini, però noi siamo una piccola comunità ci rivolgiamo di fatto per quelle che sono le informazioni interne e che devono arrivare alla nostra popolazione ad una cittadinanza limitata in termini di numeri, quindi dobbiamo sicuramente creare un qualcosa di snello un qualcosa di corretto, un qualcosa di non sensazionalistico come prima lei diceva ma vero, reale e poi da lì costruire tanti altri strumenti o comunque uno strumento integrato in maniera tale che possa poi dopo quell'informazione essere a disposizione perché professionale perché assolutamente professionale, lo voglio sottolineare, possa arrivare di fatto al mondo perché quei confini che noi abbiamo ben circoscritti e limitati in quel caso poi dopo possono essere superati come già avviene oggi senza nessuna barriera Certo, quello che facciamo poi tra l'altro quotidianamente Grazie segretario, giusto questo, poi parleremo anche della tempistica Intanto, una cosa sulla quale volevo subito fare intervenire il segretario perché è vero, ha detto una cosa vera, a volte la legge non basta cioè fino adesso una legge c'è stata che stabilisce che c'è una consulta però ci sono persone a San Marino che scrivono e esercitano di fatto la loro attività senza essere iscritti a nessun registro e a queste persone non solo arrivano comunicati stampa ma arrivano anche inviti a partecipare a conferenze stampa da parte delle istituzioni addirittura nel corso, cito, le recenti elezioni politiche perché erano stati partiti che hanno dato pubblicità allora a volte cosa dobbiamo fare per questo? Perché a volte la legge davvero non basta Beh sì, a volte le leggi non bastano in tante cose, questo non c'è un dubbio a volte si succede di cadere negli orrori, di confondere tante e più situazioni anche a livello professionale sappiamo che tutte queste circostanze un po' esistono soprattutto anche in realtà piccole come la nostra e la mia questa non vuole essere assolutamente una giustificazione, per carità ma credo che dobbiamo lavorare affinché ci sia di fatto un riconoscimento nell'attività professionale un po' in tutti gli ambiti, questo è chiaro ciò che prima Roberto Chiesa faceva presente fa parte un po' di quei difetti di confusione che sono stati introdotti dentro la legge e questo genera poi di fatto altrettanta confusione e non va a beneficio né di chi professionista lo è cioè giornalista né di chi magari lo svolge in altro modo né di chi è editore né di chi è produttore di qualunque tipo di informativa o notizia genera solo disclusivamente confusione ecco perché credo e ritengo che bisogna sicuramente metterci in mano poi dopo da partire da quella confusione e capire se individueremo l'ordine non più la consulta io per esempio differentemente dal direttore vedo invece una sorta più di categoria ma magari è un fattore di mia poca elasticità mentale cioè nel senso nelle cose ordinate riesco sicuramente a far funzionare meglio le cose ma questo non significa che altre formule potrebbero essere sperimentate oggi stiamo pensando di fatto a partire da una legge che abbiamo e magari potremmo arrivarne ad una nuova oppure integrarne quella che c'è con elementi migliori prendendo quello che di buono di fatto ha al suo interno oppure possiamo pensare ad un qualcosa ancora più snello di quello che ha un po' ingessato di fatto la legge precedente proprio anche nel fare le varie distinzioni cioè tra chi è professionista, giornalista, tra chi è editore tra chi è produttore, tra chi è informatore tra chi è il trasmettitore di una informazione, di un'informativa cioè credo che possiamo sicuramente oggi al mio modo di vedere metterci attorno a un tavolo e questo è stato un po' l'intento anche con gli amici della consulta metterci attorno a un tavolo e guardare da dove dovere di fatto partire per arrivare però in fretta ad una situazione delimente perché altrimenti possiamo rischiare di svolgere di fatto quel mal servizio che si è poi di fatto generato un po' negli anni io ho dato dei tempi ho detto cerchiamo di iniziare il percorso e lavorare almeno ad alcuni aspetti anche magari i principali entro la fine dell'anno per esempio se per la parte di chi è giornalista professionista il non avere un punto di riferimento perché non posso rivolgermi a quell'ufficio in quanto non mi ci riconoscono però io sono un giornalista non posso rivolgermi a quell'istituzione in quanto non mi ci riconoscono però io sono un giornalista questo è un aspetto che sicuramente va diretto nel minor tempo possibile in maniera tale che si possa essere poi pienamente efficienti per poi andare un po' ancora più nel tecnico delle cose quando ripenseremo a quell'organismo che sia ordine o che sia consulta lo decideremo magari anche insieme e quindi vedremo quale sarà la sua collocazione migliore anche lì io vorrei lavorare con ordine cioè non vorrei al suo interno metterci dentro tutti per esempio bisognerà anche lì fare delle distinzioni allora chi è giornalista sarà dentro quel tipo di ordine o di organizzazione o di consulta chi è editore dovremmo creargli chiaramente un filone parallelo e così via in tutti gli operatori che si possono riconoscere all'interno della comunicazione però nella comunicazione nel mondo della comunicazione voi mi insegnate ed è un mondo ormai diventato tanto grande quindi partiamo dall'origine l'origine era il giornalista che scriveva nella sua stanza con davanti la sua macchina dattilo per intenderci la vecchia macchinetta scrivevano i propri pezzi e siamo finiti oggi in un mondo in cui la comunicazione è talmente ampia in cui si fa fatica veramente a distinguere quando è comunicazione vera professionale opportuna dedicata veramente ad un messaggio che deve arrivare o entriamo nel mondo nel grande mondo dell'opinione di quella che può trasmettere chiunque magari diventa un grande bar dentro un qualcosa confuso da un punto di vista professionale la grande distingue che faceva prima il direttore è molto importante quello che dice il segretario perché il fine ultimo è che chi guarda la televisione chi legge il giornale chi consulta un sito internet si possa fidare di quello che vede legge questo è la cosa importante come si diceva anche a mio modo di vedere è questo è così perché l'ho letto lì che io legga un giornale che io ascolti un telegiornale o una trasmissione di approfondimento che guardi un sito internet sul computer o sul mio telefonino l'importante è che io sappia riconoscere che quella è un'informazione ok a posto giusta altrimenti veramente rischiamo senza un po' la classificazione di tutte queste categorie di cadere veramente in quell'elemento generalista che purtroppo a me piace poco e però purtroppo dobbiamo anche constatare che siamo ormai tutti quanti noi oggetto di subire quell'informazione molte volte troppo generalista a me piace poco a me piace ancora meno la devo fermare perché andiamo a dare la pausa tra le tante cose però che il covid ha bloccato scusate io cambio per un attimo argomento ma non è neanche poi tanto è il tavolo di confronto Italia-San Marino sulle frequenze è un argomento a cui a noi ovviamente è caro per un proseguo del lavoro e quindi ci chiedevamo a che punto siamo se avete qualche data pronta magari adesso immagino che dopo ferragosto ripartiranno un po' tutti i tavoli se vostra premura fissare al più presto un incontro per riprendere un discorso evitando che finisca nel limbo perché poi tutto il lavoro anche di sperimentazione televisiva per cui poi tra l'altro è nata la tv di San Marino quindi di programmi così rimane un pochino più sospesa ma guardate io penso che siamo tutti quanti reduci da una grandissima perdita no? non più tardi una settimana fa mi sono recato credo a nome di tutti i sanmarinesi compreso anche chiaramente la stessa emittente di Stato a salutare e a rendere omaggio chiaramente a un grande giornalista italiano ma che ha avuto credo nei confronti del nostro paese nei confronti della nostra emittente di Stato un amore profondo parto da questo ragionamento non perché abbia bisogno di continuare ad essere ricordato perché lo sarà sicuramente nel tempo dei tempi Sergio Zavoli ma parto da questo perché lui stesso fu la persona che ha creduto fin da subito in un percorso che nasceva da San Marino e doveva guardare chiaramente ad orizzonti molto ampi quegli orizzonti si possono percorrere noi lo sappiamo bene attraverso l'esercizio di determinati strumenti tra cui quello legato alle frequenze che credo negli anni il nostro paese abbia sicuramente lasciato un po' in disparte non gli ha prestato la giusta importanza nonostante che abbiamo avuto parecchie più sollecitazioni in campo basta insomma confrontarsi tante volte anche con il direttore Carlo Romeo su questo ha sempre avuto una punta di attenzione e di sollecitazione nei confronti delle istituzioni che credo che sino ad oggi le istituzioni ma no è uno stalkeraggio positivo io lo raccolgo in quei termini ma dall'altra parte mentre che raccolgo chiaramente la sollecitazione devo anche constatare che purtroppo negli anni non abbiamo prestato attenzione adeguatamente a quel tipo di esercizio che invece è molto vantaggioso oggi a che punto siamo siamo al punto di aver messo su relazioni già dall'avvio di questa legislatura all'attenzione anche del governo italiano il punto in questione in termini di discussione punto in questione che non è al numero 10 12 di quelli che abbiamo inviato chiaramente all'amica vicina Repubblica italiana ma è tra i primi tre punti tre cinque punti su cui noi dobbiamo ottenere dei risultati entro breve per due ragioni primo perché a quel punto se non si esercita mai quel diritto o primo dopo chiaramente come buona altra fonte di diritto decade sostanzialmente secondo perché credo che oggi è il tempo davvero di ricogliere delle opportunità e se lo facciamo attraverso l'esercizio di quei diritti vuole dire che interpretiamo bene anche tutte quelle metodologie che fino adesso abbiamo discusso tra cui l'informazione che passa e deve passare per forza di cose attraverso un elemento principale in un paese come il nostro cioè la tv di stato altrimenti anche lì dovremmo riconsiderare veramente qual è il senso di avere una grande forza una grande potenza una macchina uno strumento che può veramente andare oltre i nostri piccoli confini ma la stiamo utilizzando a un quarto il 20% il 30% di quello che è il suo potenziale c'è sempre una Ferrari parcheggiata esatto ma poi c'è un problema se posso da lì bisogna di fatto oggi muoversi in maniera intensa nei confronti del governo italiano presso il quale devo dirlo onestamente almeno per quello che è la mia esperienza personale ed istituzionale io trovo e sto trovando degli interlocutori molto molto attenti l'abbiamo visto che segue il nostro trigine abbiamo dato conto